Presentato oggi alla Camera di Commercio di Agrigento, il progetto Made in Italy, eccellenza in digitale. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per le imprese dei settori del turismo, dell'euroalimentare, della provincia, che possono soffrire del supporto di due digitalizzatori formati da Google e Union Camere. Il progetto Made in Italy, eccellenza in digitale, ha lo scopo di diffondere la cultura dell'innovazione digitale e a crescere la consapevolezza dei vantaggi derivanti da un utilizzo più avanzato del web per il Made in Italy. Un progetto promosso da Google insieme a Union Camere nazionale che tende a sviluppare l'importanza del web, l'importanza della digitalizzazione delle imprese, soprattutto delle imprese artigiane della nostra provincia. Non sono tutte le Camere di Commercio che hanno partecipato, noi ci siamo, siamo riusciti a partecipare e quindi mettiamo a disposizione delle imprese, soprattutto delle eccellenze dell'artigianato della nostra provincia, questa opportunità di poter varcare le soglie del mercato internazionale proprio con un click, con un click dalla propria postazione sita nella propria azienda. È importante, è un momento importante soprattutto per cercare di superare questa crisi. Cosa devono fare le aziende che vogliono accedere a questa iniziativa? C'è un sito, tra l'altro ci sono due steggiste presso la Camera di Commercio di Agrigento, selezionate dall'Unione nazionale, che hanno questo compito di agevolare percorsi formativi. Quindi la prima cosa da fare è rivolgersi alla Camera di Commercio, entrare in contatto con queste professionalità che sono state formate proprio per agevolare questi percorsi. Quali saranno le opportunità per le aziende agrigentine di sfruttare questa iniziativa che voi avete fatto Made in Italy? Allora, intanto è un progetto assolutamente gratuito per le imprese perché è un progetto che viene offerto dalla Camera di Commercio ed serve fondamentalmente a incrementare il livello culturale di digitalizzazione delle imprese e far capire alle imprese le opportunità che possono usufruire dal web. È un progetto che dura nove mesi, noi saremo qui in Camera di Commercio fino ad aprile e organizzeremo dei percorsi formativi, delle consulenze one to one, entreremo all'interno delle aziende per conoscere la loro storia, i loro prodotti e il territorio agrigentino. Il progetto prevede 128 borsisti, dette anche digitalizzatori? Sì, sì, perfettamente. È un progetto che è stato promosso da Onion Camera e Google e ha fatto un concorso, un bando. A questo bando hanno partecipato in tanti e due per provincia sono stati scelti tramite una selezione accurata da entrambi i poli. Quindi noi siamo state scelte per la Camera di Commercio di Agrigento e spero che potremo mostrare alle imprese quelle che saranno le potenzialità del web. Spiegheremo rispetto a quelle che sono poi le risorse dell'impresa e gli obiettivi al quale vuole tendere, quelle che sono le manovre necessarie per trarre maggiore profitto dal web. Grazie. 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 Grazie.